Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Continua, giustamente direi, a montare la rabbia, l'indignazione e anche lo scontento per quello che sta accadendo a Gaza, dove è in corso un vero e proprio massacro di civili, da che, come sappiamo, all'orrendo terrorismo di Hamas, Israele ha scelto di rispondere con un uguale terrorismo orrendo. Un terrorismo che, oltretutto, non si abbatte sui terroristi di Hamas, ma si abbatte principalmente sulla popolazione civile, facendo di Gaza una vera e propria prigione a cielo aperto, con tanto di massacro incorporato. E adesso, in questo contesto di indignazione e di rabbia, intervengono prontamente gli Stati Uniti d'America, che sono poi il principale protettore di Israele, e lo fanno assumendo una duplice posizione. Per un verso, dicono apertamente che è troppo alto il costo che a Gaza la popolazione civile sta pagando, quindi lo ammette perfino Washington che Gaza è oggetto di una vera e propria aggressione in forma di massacro. E poi però gli Stati Uniti, per il tramite di Blinken, fanno sapere che è inaccettabile l'accusa di genocidio mossa contro Israele. Come a dire, sì, a Gaza si sta andando un po' oltre le righe, Israele sta un poco esagerando e tuttavia è del tutto inaudito parlare di genocidio. È troppo usare questa espressione. Ecco, gli Stati Uniti non sanno bene che pesci pigliare e si muovono in questa ambiguità, per cui per un verso ammettono, apertis verbis, che a Gaza si sta esagerando e per un altro verso ridimensionano la faccenda, dicendo che per quanto sia grave la situazione non è comunque lecito parlare di genocidio. Insomma, da queste ambiguità credo che emerga limpidamente anche l'imbarazzo degli Stati Uniti d'America, che pure continuano a essere protagonisti di questa vicenda in quanto principali alleati di Israele e delle sue politiche. Grazie.